non devi mai rinunciare al tuo io interiore clint eastwood grande attore che di solito viene visto come l'ispettore cala quello che spara tutti coraggio fatti ammazzare queste robe qui come uno generoso sincero onesto ma brutalissimo nella sua rappresentazione ora è chiaro che l'attore non c'entra con il personaggio se non molto parzialmente ma quello che è interessante che questa espressione sia appunto anche sua cioè anche un personaggio che si propone come un soggetto deciso d'azione molto concreto nello stesso tempo ti ricorda che la tua interiorità che conta quello che a me colpisce molto è che mi ricorda tanto socrate come noto socrate venne costretto a bere la cicuta perché dicevano faceva cattiva diciamo azione sui giovani della sua città perché cosa a leggere almeno i testi che abbiamo sul tema le testimonianze che cosa faceva qual era il punto chiave che socrate suggeriva di dare retta al proprio daimon interiore più che non agli dei della città già socrate vedeva nella struttura della religione ufficiale di stato chiamiamola così del della suo tempo qualche cosa di costrittivo importante che va tenuta in conto ma che non deve contrastare col tuo demone nel senso del tuo spirito interiore quindi è curioso che qualche cosa di così simile venga detta da socrate il prototipo del filosofo concettoso e generoso e da l'ispettore calano comunque da un attore quindi mi viene da metterla in questo modo qua lo disse socrate e lo confermò clint eastwood non devi mai rinunciare al tuo io interiore